Il match contro il Napoli è da sempre molto sentito dai sostenitori dei due club che domenica affolleranno gli spalti del Massimino. Non ci sono ancora i presupposti per parlare di tutto esaurito, ma i dati della prevendita lasciano ben sperare. Per riscaldare l'ambiente e caricare anche quello che da sempre per il Catania è il dicesimo uomo in campo, la società ha disposto per questo pomeriggio alle 15 allenamenti a porte aperte. Come sempre in questi casi l'accesso alla tribuna sarà consentito in considerazione della capienza omologata fino ad esaurimento dei 1.392 posti. Tutti a disposizione di mister Marana, ad eccezione di Pietro Terracciano, che ha effettuato lavoro differenziato. La gara contro i partenopei arriva in un momento di gran forma per Mazzari e i suoi, forti di un prestigioso primo posto in coabitazione con Juventus e Lazio, a punteggio pieno grazie a ben tre vittorie consecutive. In casa Catania il morale non è esattamente lo stesso, la sconfitta contro la Fiorentina brucia e va assolutamente riscattata. Per questo domenica le motivazioni potrebbero davvero fare la differenza. Le indiscrezioni che trapelano ad oggi sull'undici titolare non parlano di novità eclatanti, certo è che il tecnico dovrà rivedere qualcosa tra difesa e centrocampo. Restano dunque attuali i balottaggi Spolli Bellusci e Izco Viaggianti, ma qualche certezza in più si avrà solo nei prossimi giorni.